Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Ero, mi a ridere quando mi giochino? No, no. Oh no, tu fai e fai e fai? Si, mi a ridere. Mi a ridere. Oh no, tu fai e fai e fai e fai? Si, mi a ridere. credo che devo guardare il giù, guardare il giù, guardare il giù e non si fai oh ti yep 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 we got it yep intentional don't kill me don't kill me don't kill me no whammies glad that was very amusing for you raj yo oh no oh no fuck 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 not good not good not good that was my yeah yeah is oh I 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 non sono ragazzi non sono ragazzi non è ragazzi ragazzi non è vero no è ma il ragazzi ma ok oh c'n yucsus oh my god no holy shiit thumbs up then we can be uncles me and hermy will both be uncles it'll be amazing my wife has been taking my smoked chicken thighs cutting them up and putting them into the rice cooker with the rice run 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 you stupid run oh no oh not even in yet wie finde ich basti ghg also ich gehe auf twitch und gebe hier oben basti ghg ein und da ist er schon quiver bot ist es 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 con le che? un cavolo? posso vedere? capace lo che ero l'escrivi 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 sono il cavolo si Oh my god. Ich habe kaputt geschlagen, ich habe nochmal 20 Subs gegiftet, wir haben uns komplett darauf geeinigt, dass wir das jetzt so machen, falls du mich jetzt hasst, ich kann es verstehen, es tut mir leid, ich habe mein Ding, was ich hier aufgeschrieben habe, nicht bedacht, aber wenn ich Baskat mache, bin ich absolut defensiv, es tut mir leid. Vielen Dank für den Stream! Non c'est pas 5 minuti, c'est bon. Putain, mais nique ta mère, toi! Qui a fait quoi? Il y a eu un gros boom. Mais putain, mais Adrien? Mais attends, mais il a baisé ma base? Mais attends. Oh! Let's go! Let's go! Alter chat! Ja, 11. Folge 10. Tag. Ich habe noch nie jemanden so langsam fliegen sehen, ne? Was? Aber sah cool aus. Du sahst aus, als wenn du so ein Vogel mit nur einem Flügel wärst. Wie du hier gerade langgezogen bist.